Buonasera a tutti. Beh diciamo che partiamo subito con questa, così. Per creare un immaginario, visto che innanzitutto grazie, grazie a Fondazione Cormagior, grazie a Ordine degli Architetti e grazie anche di questa nuova accoglienza da parte della padrona di casa e in effetti il luogo è straordinario e penso che possa essere particolarmente significativo anche per i nostri amici corsi essere qui oggi e poter visionare prendere atto di un luogo che è così stratificato nel tempo e come bene diceva Sandra Sapia, effettivamente è parte del loro immaginario e del loro lavoro, quello di occuparsi di stratificazioni e di momenti storici diversi che certamente la Corsica ha nel proprio DNA. Mi diverte appunto prima di dare loro la parola che sono i protagonisti di questa sera cercare di visualizzare questa, quest'isola e anche in qualche modo spiegare perché abbiamo fatto questa scelta tutto sommato particolare di occuparci di un luogo che innanzitutto ha dei confini estremamente definiti quali sono quelli dettati dal fatto stesso di essere circondata dal mare quindi rispetto a tutti i precedenti incontri prevalentemente diciamo localizzati e definiti da semplicemente da dei confini amministrativi in questo caso c'è un confine decisamente più importante e più visibile e poi perché forse in realtà la Corsica si è mare e forse molti di noi la conoscono soprattutto per questo ma sappiamo anche che è molto montagna sappiamo che si può fare sci alpinismo in Corsica sappiamo che nevica che c'è una montagna piuttosto alta che si chiama Monte Cinto e che giustamente come ricordava Roberto Ruffie anche da un punto di vista naturalistico l'ambiente è particolarmente significativo per avvicinarci appunto a questo a questo immaginario non solo della Corsica ma in generale di quali sono le differenze tra di come le Alpi siano in realtà molto estese vi leggo molto brevemente un paio di frasi tratte da un recente libro del 2023 Assalto alle Alpi del famoso diciamo autore e giornalista in ambito rimanendo in ambito montano Marco Albino Ferrari Dalle creste nevose sin giù agli scogli ricoperti di salsedine le Alpi sono tutte montagne anche le scogliere in riva al mare e ciò diventa ancora più vero se la montagna è vista attraverso la complessità che la determina nelle variabili dipendenti tra loro la clività le differenze di esposizione topografica la massorografica la spigolosità delle forme le costrizioni ambientali le condizioni speciali che impone alla vita e ancora per definire la montagna e dunque le Alpi bisognerebbe addirittura spingersi oltre ricorrendo a una tautologia la montagna è ciò che è pensato come tale la montagna come percezione e rappresentazione è dunque ciò che si rivela tale ai nostri occhi e mi sembra che appunto sia questo decisamente questo lo spirito con cui a noi è sembrato appropriato e corretto misurarsi con con questo ambiente misurarsi con la natura di un'isola e con la Corsica e soprattutto appunto rivolgere il nostro sguardo a questi architetti che hanno il loro punto il loro quartier generale proprio all'interno vedete al centro vedete corte questo questo paese quindi dell'entroterra in realtà una delle città dell'entroterra più popolose della Corsica e molto vicina appunto alle zone alle zone di montagna ancora un brevissimo cenno sull'ambiente in cui ci troviamo più che altro da un punto di vista di quello che è di quello che di fatto noi spesso ci misuriamo con l'architettura per mestiere con l'architettura contemporanea diciamo soprattutto con il dibattito di architettura contemporanea e la Corsica negli ultimi ormai anni sarete voi eventualmente a correggerci ma a noi pare di capire che ci sia molto movimento e che succedano cose che in più occasioni hanno attirato la nostra attenzione ricordo per la rivista per Casabella ci siamo occupati del museo del vino che aveva costruito Gilper Rodin vicino a Patrimonio poi nel tempo anche Falossi vicino a Bastia ha costruito questo importante museo che di fatto ha dei grossi rimandi archeologici una grande riflessione archeologica e poi mano a mano in realtà l'età di alcuni progettisti ci sembra che si stia abbassando e che ci sia una forte presenza in qualche modo anche un ritorno di architetti che hanno studiato all'estero e che tornano alle origini e tornano in Corsica e in particolare forse diciamo Agiaccio Bastia e Bonifacio sono le città forse dove più stanno avvenendo diciamo delle questioni in particolare Agiaccio leggevo che si sta diciamo da un punto di vista comunale ci sono circa 15 differenti operazioni immobiliari in corso anche che riguardano aree storiche per esempio la cittadella così pure Bastia ci sono degli interventi molto recenti alcuni dei quali anche pubblicati in importanti riviste straniere che hanno interessato proprio luoghi più radicati storici per riconnettere anche parti di città quindi è abbastanza incredibile oggi trovarsi a Bastia credo che possa entrare a tutti gli effetti in un circuito di architettura contemporanea perché sono almeno tre gli interventi molto forti che permettono nuove viabilità ha molta attenzione comunque a tutto il tema della sostenibilità possibilità di riconnettere differenti parti di città e di percorrerle in bicicletta quindi si tratta di una serie di operazioni veramente significative da un punto di vista urbanistico e architettonico che credo spingano a dire che molto sta accadendo e diverse sono anche gli elementi di protagonismo di ormarchitettura stessa perché ad Agiaccio ricordo l'ho anche personalmente visitato questo bellissimo mercato coperto che ha sicuramente delineato un momento importante della loro della loro attività e vorrei ricordare che lo studio orm è stato fondato da Alissi Orsini che oggi non è con noi François Tramonini Tramoni Tramoni Jean-Mathieu Deliponski e Michel De Roccaserra a cui diamo appunto un nostro grande benvenuto torneremo magari a seguire con delle domande più precise sulla loro attività e anche approfondendo alcune questioni che sono in parte emerse sulla loro in particolare forse rispetto a questa questione dell'attenzione alla storia e quindi l'orma la traccia questa attenzione a scavare a rivedere la Corsica rurale ma anche a ritirare fuori degli elementi che sono veramente afferenti a epoche diverse in fin dei conti credo ci siano anche delle forti similitudini la Corsica romana credo che avesse è una rilevanza che non è tanto diversa da quella della osta romana per cui sicuramente credo che oggi siete stati sollecitati anche da questa da questo elemento e per chiudere credo anche che questa attenzione all'impronta sia una questione che riguarda anche un'impronta ecologica questo significa non solo rintracciare le orme del passato ma avere molta attenzione all'orma che oggi alla traccia che oggi l'uomo lascia sul territorio quindi in questa consapevolezza e soprattutto direi responsabilità dell'architetto di fronte al fatto di costruire si abbassino si abbassino le luci lasciamo la parola ai nostri amici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti